Desidera modernare casa sua e ha delle aspettative elevate in termini di comfort, efficienza energetica e mantenimento del valore? Allora Minergy è il suo compagno di viaggio. Se la sua abitazione ha già qualche anno, le offriamo con l'ammodernamento di sistema una soluzione semplice secondo lo standard di costruzione Minergy, per un ammodernamento energetico di alta qualità. Se anche lei utilizza ancora la nafta o il gas per riscaldare gli spazi e gli spifferi d'aria la tormentano, allora è giunto il momento di rinnovare casa. Meglio ancora se secondo uno dei tre standard di costruzione Minergy. Per gli edifici residenziali esiste addirittura un modo più semplice per l'ottenimento del certificato Minergy, l'ammodernamento di sistema. Esso offre cinque soluzioni per ogni caso, o quasi. Per edifici vecchi e non isolati, per case sulla cui facciata non volete o potete cambiare nulla, o per quegli stabili che sono già parzialmente rinnovati. Le cinque soluzioni di sistema le indicano la via da percorrere. Scelga quella che fa per lei. Le misure sono combinate idealmente e adattate al cece. Essi ottimizzano l'involucro dell'edificio, la produzione di calore, l'elettricità e il ricambio dell'aria. Il suo impegno sarà minimo. Lei deve solo scegliere il sistema, senza alcuna necessità di verifica tramite calcolo, e la qualità è assicurata. L'ammodernamento di sistema Minergy è la via più semplice per rinnovare il suo edificio con la qualità Minergy. Esso completa la gamma di prodotti Minergy a sua disposizione dalla progettazione, passando per la costruzione, per giungere all'esercizio a lungo termine. L'amodernamento di sistema Minergy L'amodernamento di sistema Minergy Grazie a tutti.